Tedino, benvenuti in Abruzzo, in bocca al lupo per questa nuova avventura con il Teramo. Mi ha colpito tanto una frase che ha detto in conferenza, la società mi ha messo al centro del progetto. No ma è così, se poi non sarà vero lo dirò, ma quello che mi ha fatto scegliere di venire qui è stato esattamente questo, sinceramente. Mi fa piacere, mi sono sentito molto considerato e quando si va a toccare delle corde dal punto di vista morale, per me, che sono di vecchio stampo, è stata per me una grande soddisfazione. Iaconi ha detto che siamo venuti a Bologna a parlare con lei, poi stavamo andando a Firenze e è arrivata la telefonata di Tedino che ha detto che ha accettato, più o meno. Non è proprio così, però diciamo che il succo del discorso è un pochino questo. Cosa ha pensato dopo aver parlato con Iaconi, prima di ricontattarlo per dire sì, accetto? Ma ripeto, quello che mi hanno detto, io ho fatto la domanda che se tutto vero quello che mi avevano detto corrisponde diciamo al vero, vengo a Teramo. Da Venezia? Non abbiamo anche parlato di soldi, non abbiamo parlato di soldi. La prima cosa che mi hanno detto, che gli ho detto loro, se voi ribadite quello che mi avete detto tre o quattro ore fa, io ci vengo, altrimenti no. E quindi eccolo qui a Teramo. Quanto è stato difficile dire no all'amico Fabio Lupo, Venezia che era già praticamente con più di un piede in Serie B? No, Fabio è un grande professionista, una persona seria, sa che se io ho speso una parola non me la rimangio perché sarebbe stato brutto anche nei suoi confronti. Dire sì al Venezia e poi andare magari in un'altra società più importante sulla carta. Però in questo momento qui Fabio rimane sempre per me un grande professionista, una grande persona da seguire, ma in quel momento lì è arrivato il Teramo molto pelo prima e in quel momento Fabio non era prontissimo. Dopo quello che mi hanno detto sinceramente mi sono sentito presente per venire qui. La squadra di Tedino, 4-3-1-2 è il suo sistema di gioco, in quest'ottica cianci infantino, possono essere la coppia di attaccanti, manca qualcosa oltre che numericamente e anche qualitativamente? Ma guarda, in questo momento qui non è che possiamo assolutamente pensare di essere così limitativi su un paio di giocatori. Stiamo lavorando, stiamo cercando di portare un certo tipo di progettualità tecnico-tattica, vediamo alla fine cosa succede. Perché il mercato è in grande evoluzione. Faccio solo due nomi, uno il Presidente ci ha detto che ha appena firmato Di Matteo, grande giocatore per la categoria. Domani arriverà anche la firma di Mungo, giocatore con grande qualità per il centrocampo in Serie C. Del mercato io non voglio parlare, ci sono due direttori che sono molto preparati. Mi commenti solo tecnicamente questi due giocatori, Mungo e Di Matteo. Di Matteo è un ragazzo che conoscete meglio di me, è un terzino che spinge, ha un grande piede, è un ragazzo meraviglioso. E' Mungo, un giocatore che è il calcio, quindi io spero vivamente che possa esserci. Però, ripeto, di mercato non voglio parlare, ma per me Mungo è il calcio, quindi lo sa il mondo quanta stimò in questo calciatore. Allora, mi rispondo all'ultima domanda. Obiettivi tecnici per questa stagione? Play-off, alta classifica o subito la letterina B? No, no, no. Come ho detto prima, bisogna intanto fondare una casa non dal tetto, no? Cioè, quindi la Serie B è il tetto. Vediamo se tramite le fondamenta, gli infissi, tramite le sale, riusciamo insieme con il lavoro a prepararci per eventualmente fare un salto di categoria. Ma per il momento è giusto non parlarne. Grazie a tutti.